L'Ela Pelletier è un'icona di quelli coloro che noi chiamiamo gli indiani d'America, che non sono indiani. Colombo pensava di aver scoperto l'India e ognuno di quei popoli aveva un suo nome, per cui non è giusto, sarebbe meglio chiamarli popoli indigeni dell'America. È un'icona loro perché davvero ha lottato nel grande movimento American Indigenous Movement, è stato uno dei leader storici di questo, per dare dignità a questi popoli, che noi chiamiamo gli indiani da big pelli rossa, questi popoli indigeni, dignità. Ricordiamoci che storicamente, storicamente, quello che è avvenuto, basterebbe per capire il dramma di quello che è avvenuto e sta avvenendo. Praticamente i dieci milioni di popoli indigeni, chiamiamoli indiani, che vivevano a nord del Messico, al momento dell'arrivo di Colombo, si ridussero sia, presso a poco, si ridussero alla fine a meno di un milione, da dieci milioni, sono stati massacrati. Si tratta di un altro genocidio perpetrato da noi occidentali. E quelli che sono rimasti sono stati rinchiusi in riserve. Il movimento, chiamiamolo indigeno, questo movimento di cui uno dei capi storici è stato L'Eran Peltier, voleva chiedere la dignità, il rispetto per questi popoli che sono stati adesso ridotti praticamente a nulla, rinchiusi nelle riserve dove praticamente non contano nulla. È assurdo. Questi popoli avevano una loro dignità, una loro bellezza, una loro civiltà. Ecco quello che questi leader storici di questo movimento, grande movimento, stanno portando avanti. Ecco perché allora è importante davvero chiedere la liberazione di questo uomo. Ha già pagato 46 anni, gli hanno dato due ergastoli, uno dietro l'altro. 46 anni, passa a marcire in un carcere. Personalità di tutto il mondo hanno chiesto agli Stati Uniti di liberare quest'uomo. Deve essere davvero liberato per dare speranza, dignità a questo popolo che è stato letteralmente distrutto e continua ad essere schiacciato dall'America bianca. Non possiamo accettare questo. Dobbiamo davvero sostenere coloro che si danno da fare per la liberazione di questo popolo. Chiaramente una liberazione che è portata avanti dalla non violenza attiva che è fondamentale, ma è fondamentale davvero darsi da fare perché questi popoli ricuperano la loro dignità. Leonard Peltier è un'icona davvero per questo grande movimento. come dire oggi Black Lives Matter per gli afroamericani. La stessa cosa è per questi popoli indigeni. Dobbiamo sostenere questo impegno e chiedere al governo americano, a Biden, che liberi quest'uomo perché possa davvero continuare a darsi da fare per questi popoli oppressi e schiacciati. Grazie. Grazie. Grazie.